speciale 13 marzo 1993 la leggenda continua benvenuti nell'altra dimensione e l'altra dimensione della musica e l'altra dimensione della follea e la dimensione imperiale e l'altra dimensione della musica perché quando la musica non è più musica presentala con mia allora la musica è magia, è imperiale è speciale, è speciale questo è il nuovo disco imperiale per il 1993 è il disco imperiale di Andrea Giudice sociale non stop music e qui a mezzogiorno 12 ore consecutive all'imperiale lui è la musica lui è il filastro dell'imperiale è speciale Giudice è il controllo e qui a mezzogiorno e qui a mezzogiorno lsd 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.